La principale causa di morte tra i giovani, compresi tra i 15 e i 24 anni, è proprio l'incidente stradale. Questo è dovuto, come avete già sentito dal Ministro Piantedosi, all'eccesso di velocità, alla distrazione legata spesso in particolare all'uso dei cellulari, all'assunzione di droghe, di alcol, l'abuso di alcol, alle sfide in voga purtroppo sui social media. Sono vite spezzate che non vogliamo più contare.